l'Italia dei Valori. L'idea che il capo del governo italiano vada all'estero a parlare male delle istituzioni italiane, a cominciare dalla magistratura, che è una delle istituzioni fondamentali per il funzionamento della legalità nel nostro Paese, a cominciare dal Presidente della Camera e quindi da un'altra istituzione, il Parlamento, non è una persona che ha la testa sulle spalle, è una persona che è malata psichicamente e che è un pericolo per la democrazia e per il Paese, ecco perché prima ce ne liberiamo e meglio è.